Contro il piano sanitario anche i cittadini di Sernia hanno deciso di scendere nell'arena fondando il comitato proveneziale. È stato nominato presidente Marco Condidorio, responsabile dell'Unione Italiana Cecchi del Molise. A suo avviso anche l'ospedale del capologo di provincia rischia di chiudere. L'ospedale di Sernia è deciso che debba essere cancellato, debba essere come dire, smontato in tutte le sue componenti. Questo è ciò che emerge dal piano di riorganizzazione aziendale e a questo punto è giusto che i cittadini si organizzino con idee sociali che non abbiano un colore ovviamente politico. Da che cosa si evince? Semplicemente dal riordino del piano aziendale che in qualche modo dice che debbono essere trasferiti, tolti dei posti letto, ci sono costi eccessivi ma questi posti letto evidentemente invece che essere azzerati in modo definitivo sono azzerati per il pubblico ma compaiono nel privato. Il prossimo passo del comitato sarà quello di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sui rischi che si corrono a Sernia. Al tempo stesso si pensa anche a qualche controproposta. Io spero che i cittadini comprendano il serio pericolo verso cui sta andando la loro salute perché se l'ospedale di Sernia scompare la salute di ogni cittadino di Sernia è davvero in serio pericolo perché uno che dovesse essere colto da infarto e magari rompersi anche una gamba perché mentre gli coglie l'infarto cade dovrebbe essere curato almeno in tre luoghi differenti dalla città di Sernia. Insomma anche a Sernia il piano sanitario è stato bocciato su tutti i fronti. Durante un incontro più o meno segreto che si è tenuto al veneziale infatti il dirigente della ASREM, Percopo, ha incassato solo una montagna di perplessità. Primari e medici hanno detto no a un piano di riordino sempre più sbilanciato a favore delle strutture private ma soprattutto hanno contestato il ridimensionamento di sette reparti dell'ospedale Sernino.